L'arrivo di Amaury oltreoceano ha preso un volo per venire qui a te, il simbolo dell'affetto che lo sporta verso di te, veramente una bellissima giornata Amaury, Bellini, Amaury dal Brasile, Bellini dalla Spagna, Sulla dalla Puglia, gente che è venuta ha fatto il chilometro a Torino, questa gente che va apprezzata tantissimo, ha la faccia di chi non è venuto, questo non è caccio, questi hanno i valori umani, quello che io ho sempre cerchiato, stasera l'ho trovato e sono molto contento e sono orgoglioso di questa storia. Terni e Bergamo, due città sugli spalti, una cosa bellissima è unito anche il calcio e la bellezza dello sport. Sentite, guardali, è bellissimo questo, dopo tanti anni abbiamo rimesso la curva piena con la gente che canta insieme a Bergamo, Terni, Livorno, credo che ci siano da Messina, San Paolì, Belgio, Scozia, non si sa più chi c'è in curva, è una cosa bellissima, ho fatto il calcio, ti ripeto, sono molto orgoglioso di questo. Hai avuto la risposta che volevi, insomma, dalla tua carriera. Sì, sono molto contento, sì, infatti, chiudere così credo che sia il massimo per me.